Sorpresa, egoisticamente l'abbiamo fatto anche per noi, per vedere un po' di neve. Anche per rivedere un po' di neve, andiamo al 2004, la mitica Strife. Ah, va bene. Una spaccata a 140 orari per dire addio alle gare, insomma, quelle immagini con così tanta neve, speriamo di non, come dire, di non archiviarle come un vecchio ricordo. O speriamo, no, di rivederle, meglio non usare il negativo, di rivedere quelle belle emozioni, non solo in termini di neve che è fondamentale, importante per noi, per il turismo della montagna, ma soprattutto anche per i nostri italiani che continuino ad andare forte, ad andare a vincere. Qui non ho vinto, io sono arrivato sesto, però questo gesto qui, questo salto qui, mi ha portato un po' alla storia, tant'è vero che ormai la gente mi riconosce più per la spaccata che per i miei successi che ho tenuto in coppia del mondo. Va bene. Un po' per tutto, grazie Cristian Ghedina. Grazie Cristian Ghedina, ancora una volta. Grazie.